Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessila News. Oggi parleremo di un filato 100% cotone, molto resistente, ma anche molto brillante. Stiamo parlando del filo di Scozia ed in particolare dell'Amanda. Questo filato si rinnova con una cartella colori ancora più ampia. Andiamola a scoprire insieme. Eccolo qui il nostro Amanda, un filato composto al 100% da cotone che si lavora con gli uncinetti dal 1,5 al 2 e con i ferri dal 2 al 2,5. Per quanto riguarda le istruzioni per il lavaggio consigliamo di non superare la temperatura di 30 gradi e di non candeggiare. È possibile invece utilizzare tutti i solventi più delicati, eccezione fatta per il tetragloretilene. Sarà inoltre anche possibile stirare i prodotti realizzati con questo filato ad una temperatura non superiore ai 150 gradi. Come vediamo si tratta di un cotone ritorto e molto resistente. La lavorazione a cui infatti viene sottoposto il cotone a tiglio lungo elimina tutte le fibre più deboli. Il filo quindi prodotto non si ritira e si mantiene integro a lungo. Il risultato sarà un filato di origine vegetale che è completamente anallergico e antibatterico. Andiamo a vedere ora tutte le colorazioni disponibili. Quella che abbiamo appena visto è la colorazione fucsia. Qui abbiamo il rosa e il rosa scuro. Qui vediamo invece la colorazione cipolla, salmone e lilla. Passiamo ora ai toni del celeste. Carta da zucchero, celeste e azzurro. Vediamo ora delle tonalità più brillanti. Il blu, il turchese e il bluet. Passiamo ora alle tonalità petrolio, grigio perla e viola. Per le tonalità del verde abbiamo militare, verdino e il verde. Passiamo ora alle tonalità più calde, il rosso, arancio ed il bordeaux. Ancora sui scaldi vediamo il colore senape, giallo e tortora. Per le tonalità neutre invece vediamo beige, bianco ed ecru. E per concludere vediamo le tonalità più scure della gamma. Abbiamo il grigio, il marrone ed il nero. Come abbiamo visto la gamma di colori per questo filato è davvero molto ampia. Lavanda infatti permette di realizzare numerosi progetti, a partire da centrini, runner, tovagliette o copriletto, fino ad arrivare ai capi di abbigliamento. La sua morbidezza, la sua lucentezza, ma al tempo stesso la durevolezza e la resistenza lo rendono adatto alla realizzazione di capi di abbigliamento, sia per i più grandi che per i più piccini. Altra proprietà di questo filato molto importante è la caratteristica di essere antibatterico, antiallergico e particolarmente traspirante. Questo infatti si presterà particolarmente per la creazione di capi molto delicati adatti anche ai neonati. Anche per questo filato Tessiland pone particolare attenzione ai processi di produzione. Vengono infatti selezionate appositamente da Tessiland le migliori fibre di cotone per realizzare un filo di Scozia che ha poi come risultato appunto questa brillantezza e morbidezza. E non ci rimane che attendere le vostre creazioni. Io vi saluto, vi ricordo di attivare la campanella, iscrivervi al nostro canale e di seguirci su tutti i nostri social. La pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tessiland News! Grazie a tutti! Grazie a tutti!